Bene, eccoci qua, è sabato e come vedete ci stiamo preparando qui nell'area del Bigi Storico o qualcun che è anche qua, sta preparando anche il suo Leven Campaign Corner, la mitica segreteria e qua ci siamo ed eccoci qua, ci sono anch'io con Olsen Musket Io vi aspetto qui a Modena Play, questo sarà il sabato, sarà il giorno più impegnativo sicuramente vediamo anche qua i prototipi di Nauria, prototipo anche di Inferno e quindi veramente tante tante cose, tante novità da provare qui all'area Bigi Storico di Modena Play 2022 Vi aspettiamo!